bentornati bentornati a tutti amici dell'eccesso in questo nuovissimo video mamma mia allora innanzitutto mi dovete ringraziare perché il merito di questa rimonta è tutto suo della polizia federale ok che anche oggi ha operato con dei magheggi è una partita molto difficile da analizzare nel senso che mi sono scontrato con diversi di voi perché secondo me la formazione messa in campo era sbagliatissima l'ho scritto su instagram abbiamo fatto dei video analisi prima e l'abbiamo detto aspramente criticando la scelta di formazione durante il primo tempo dove c'era un cagliari completamente in ambasce cioè è chiaro che alcuni alcuni membri della squadra fossero ecco mio nonno mi chiama io mio nonno deve capire se mi seguo su youtube che io faccio faccio videacci e quindi non mi può disturbare e non mi deve disturbare quindi mi ha disturbato quindi scusate dicevo quindi cioè se ci sono dei giocatori che sono stanchi o giocatori che non sono stati gestiti bene durante la gestione durante la la regular season mi viene da dire vabbè comunque nell'arco delle 38 giornate tipo d'ossena o tipo mancoso quei giocatori non devono giocare o se ci sono dei giocatori inabili come pavoletti quei giocatori non devono giocare quei giocatori ti possono entrare a partita in corso dove magari ci sono certe situazioni certe dinamiche e quelle cose lì cioè io adesso non vorrei cioè adesso questa cosa che non si può ci deve essere omerta su qualsiasi cosa non si può criticare mai nulla non si può mai dire la propria perché sennò si è contrari a decisioni no lo dico visto che alla fine sbucavano sbucavano tutti a ma come come si fa a criticare ma scusate ragazzi ma i primi 70 minuti del Cagliari li avete visti cioè e da cosa derivavano derivavano da una scelta di formazione sbagliata poi ha messo puntualmente Luvumbo e Zito Luvumbo Zito Luvumbo è stato ha cambiato completamente la partita perché se uno ti fa due gol col destro un mancino che ti fa due gol col destro e si prende un rigore con anche la madonna che tuono con anche la mano del press anche qui grazie alla polizia federale è chiaro che ci siano diecimila diecimila input che vanno che influiscono poi emotività generale e cose però voglio dire cioè sono contento che poi tanta gente trovi modo di tornare a fine live a dire ah vedi no cioè ragazzi la formazione iniziale è sbagliata appunto Rog e Pavoletti non andavano messi perché Rog è un altro che in certe dinamiche e con un certo dinamismo c'entra più poco purtroppo data la condizione fisica Pavoletti io non voglio neanche espormi perché non capisco se sta male se veramente ormai deve appendere gli scarpini al chiodo cioè io onestamente faccio fatica a immaginare Pavoletti in qualsiasi tipo di partita di livello dalla serie B in su onestamente quindi non so se in serie C possa giocare un giocatore che gioca così ma veramente una roba allucinante cioè fisicamente inconsistente boh vabbè comunque faccio questa analisi perché ragazzi io sono contentissimo sono incredibilmente contento della della vittoria di oggi andatevi a vedere le esultanze fatte durante la live però io come non mi sono esposto sui sensazionalismi fatti dopo il gol di centrocampo da Mancosu non mi sono mai esposto ad eccessivi sensazionalismi in generale ho sempre piuttosto esagerato a difendere certi giocatori da attacchi continui della stampa c'è anche a fine primo tempo gli attacchi erano continui nei confronti di Zappa ma perché non si diceva nulla di Dossena ma perché non si diceva nulla di altri giocatori di altri giocatori che erano imbarazzanti altro che Zappa tipo Pavoletti perché c'è questa umertà a Cagliari nel dire le cose perché non c'è voglia io adesso non voglio uscire troppo perché io sono molto concentrato sull'obiettivo finale l'obiettivo finale al di là della finale da raggiungere è la serie A e quindi voglio rimanere molto coi piedi per terra e molto godendomi in questa bellissima serata queste emozioni per cui per cui si ti fa Cagliari e devo dire la verità io non avevo tutte queste speranze nel fatto che l'UVM potesse cambiare la partita in meglio così onestamente perché erano un po' di mesi che ormai entrava e non faceva più un gran che oggi è entrato baciato dagli dei del calcio e fa di tutto ecco il merito che va dato a che va dato a Ragneri è sicuramente dell'aver forgiato una squadra e questa partita la riprende una il Cagliari la riprende perché una squadra poi ok l'UVM poi Nandez ha fatto un secondo tempo totale il primo tempo era molto sottotono secondo tempo totale la ripresa della partita deriva anche da Nandez da quella sua voglia di andare a lottare prendere quella palla di metterla in mezzo per l'UVM quindi noi su questo canale siamo qui ad applaudire Nandez non abbiamo posizioni fisse prese partitiche cioè se Nandez fa un secondo tempo del genere e partecipa a questa rimonta in modo attivo noi siamo qui ad applaudirlo alla fine che prenda uno che prenda due che prenda tre che prenda quattro che prenda cinque milioni noi a fine partita siamo qui ad applaudirlo se e partecipe della rimonta del Cagliari ed è uno degli artefici principali siamo qui ad applaudirlo non siamo degli omertosi su questo canale o cose di questo tipo ok cioè adesso per la partita di venerdì di sabato quando è la partita non mi ricordo venerdì o sabato per quando è la partita comunque contro il Parma forse sabato ragazzi cioè voglio dire io non li vedo gli allenamenti Ragnari li vede facciamo delle valutazioni di conseguenza facciamo delle valutazioni di conseguenza ok facciamo delle valutazioni di conseguenza cioè voglio dire Paoletti mi sembra sia abbastanza evidente che non ci stia proprio non ci sia mancoso ragazzi se gioca così mi dispiace ma purtroppo si testimonia una cattiva gestione cioè non una cattiva gestione un insieme di circostanze che hanno portato a dover a dover riaggiustare le cose cioè riaggiustare le cose a dover sempre usare titolare e quindi ovviamente arrivato a questi playoff che si vede non è in forma e capire un attimo al centrocampo come gestire quelle mezzali cioè è chiaro che il centrocampo del primo tempo sia irriproponibile cioè ragazzi io ho visto uno dei peggiori Cagliari di Ragnari sino al settantesimo ripeto quando è che ha fatto il primo gol Luvumbo non ho presente sino al primo gol di Luvumbo cioè prima del gol di Luvumbo il Cagliari non aveva fatto un tiro in porta in casa in una partita decisiva e ne aveva presi due ok cioè io ripeto non voglio sminuire questa vittoria che è importantissima sono contentissimo chiaramente ma sono sinceramente molto arrabbiato e molto deluso dai diversi tifosi che a fine partita tornano dicendo e vedi ma Ragnari non si può criticare non si può dire nulla vabbè allora facciamo una cosa non non faccio più video non facciamo più video prima o dopo le partite non si analizzano più non si dice più niente perché tanto viva l'omertà viva il non dire un cazzo non funziona così quindi forza Cagliari andiamo a prenderci questa finale andiamo a Palma con grande attenzione grande concentrazione un bacione ciao a tutti forza Cagliari ciao a tutti